Come vi avevo annunciato oggi e da adesso in avanti ci occupiamo solamente più di esercizi d'esame, oggi ho provato a selezionare due che dovrebbero in grosso modo occuparci nell'elezione di oggi, poi ovviamente se li ho presi da quel sito in cui ci sono tutti gli esempi, alcuni esempi di testi degli anni scorsi, ne sono stati un paio che sono diversi rispetto a quelli che vi trovate su XSize, ma vi potete comunque guardare all'interno di ogni, questo è il sito di esempi d'esame dove vedete ci sono vari testi e all'interno di ciascuno trovate il testo e poi ci sono i file da scaricare, normalmente ci sono dei file da leggere quindi li potete scaricare direttamente da qua, da questo sito su Github, Github è una cosa che imparerete perché è fondamentale diciamo così per chiunque sviluppi software o altre cose di tipo digitale, ma nel primo anno non abbiamo tempo di fare anche questo. Allora io partirei da questo testo d'esame che si chiama qua Piramidi, non so se avete già avuto modo di leggerlo, riveggiamolo velocemente insieme, il professor Otto ha scoperto un complesso di costruzioni piramidali composte da cubi di un metro di lato, ogni struttura, quindi ogni piramide, a un punto più alto al centro, come tutte le piramidi che si rispettino, circondate da un secondo livello più basso di un metro e più largo di un metro, in ogni direzione, seguito poi dai numerevoli successivi livelli che degradano o fino al suolo oppure fino a incontrare diciamo così la pendenza e il lato di un'altra piramide, oppure fino alle pareti rocciose che delimitano l'area. Data la regolarità della zona, il professor ha diviso l'area in una griglia di quadrati larghi un metro, dopodiché considerando il suolo e l'altezza zero ha notato in un file una tabella rappresentante tutte le altezze come numeri interi. Si noti che una cima deve avere altezza maggiore di zero e può essere riconosciuta dall'assenza di punti adiacenti più alti. Questa è la frase più importante di tutto l'esercizio, cioè la cima, la punta della piramide deve avere altezza maggiore di zero e può essere riconosciuta dall'assenza di punti adiacenti più alti. Ci è sufficiente verificare che la quota di un punto della nostra mappa abbia una quota maggiore di tutti i punti ad esser adiacenti. Il discorso che faceva prima il testo che ci sono innumerevoli successivi livelli che degradano fino al suolo eccetera, in realtà è una spiegazione che ci dice come è fatta questa mappa ma non dobbiamo necessariamente verificarlo. Adesso poi si vedrà dall'esempio che non è necessario verificare che, ad esempio se c'è una cima a livello 5, poi intorno ci sono gli adiacenti a livello 4, poi intorno a questo a sua volta ci sono gli adiacenti a livello 3 e così via. Non dobbiamo necessariamente verificarlo anche perché poi potrebbero non essere a livello 3 questi adiacenti perché magari vanno a sovrapporsi con un'altra piramide che c'è. Quindi la difficoltà o la concentrazione che bisogna dare a questo esercizio è di non perdersi in questa descrizione ma capire che questo era il requisito essenziale. Si noti anche che ogni cima non ha cime direttamente adiacenti nemmeno in diagonale. Questo in realtà è una conseguenza di quello precedente perché se io ho una cima che ha delle caselle adiacenti che sono tutte minore estrettamente di essa allora le altre non possono avere due caselle adiacenti le quali siano entrambe una minore dell'altra e l'altra minore della prima, non ci può stare. Quindi è una conseguenza di quella precedente. Allora si richiede di scrivere un programma in grado di acquisire un file dal nome mappa.txt e questo programma dovrà stampare a video l'elenco delle cime seguendo il seguente formato. Altezza, riga, colonna di queste cime di piramidi. Quindi ci saranno tante righe e quante sono le piramidi che riusciamo a trovare e di ciascuna delle quali mettiamo l'altezza della cima e le coordinate riga colonna in cui le abbiamo trovate. Al termine stampare l'altezza media delle cime. Numerare le righe e le colonne partendo da zero e si assume che il contenuto del file sia corretto e conforme alla descrizione. Quindi questa è un'altra fase importante che ci sta dicendo non preoccupatevi più di tanto di essere paranoici nella lettura del file, nel controllo dell'errore e cose di questo genere, il file è corretto, ci dicono già che è giusto, quindi assumiamo che lo sia e concentriamoci sull'elaborazione. Quindi questo è un esempio di un file mappa.txt che è quello che ci troviamo anche poi nel progetto e che è quello che in fase d'esame vi trovate già precaricato nel vostro progetto e da cui si vede ad esempio, non so io ad esempio vedo qua un 5 che è circondato da 4, che è circondato abbastanza da 3, che è circondato quasi da 2 e poi da 1 e poi da 0, quindi questa qua è una piramide che ha l'altezza 5 e il centro qui. Poi per quanto riguarda gli anelli concentrici, l'anello del 4 è completo, l'anello del 3 anche in questo caso, quello del 2 già non è più completo perché vedete che qua ci sono dei 3 dove, diciamo così, questo anello dei 2 dovrebbe continuare, ma perché? Perché questi 3 in realtà sono il digradare della piramide che ha vertice 4 che si trova in questa posizione. Quindi al di là del primo anello, quelli successivi potrebbero non essere completi perché potrebbero esserci altri piramidi in mezzo, quindi è meglio non andare a verificarli. È normale che negli altri anelli, quelli oltre agli adecenti diretti, quindi è importante che le caselle vicine alla cima siano tutte minori della cima stessa, ma le caselle vicine a quelle vicine non ci interessa più andare a controllarle. Quindi questo 4, appunto, anche lui essendo circondato da 3, anche lui è una cima di un'altra piramide. E quindi ad esempio qui verrà scritto che c'è una piramide nell'output alta 5 nella posizione riga 1 colonna 2, quindi il testo ci chiedeva di numerare righe e colonne partendo da 0, quindi la seconda riga è la terza colonna che è proprio la coordinata di questo 5. Poi mi dirà che c'è un 4 nella posizione 4, 6, quindi quinta riga 0, 1, 2, 3, 4. Settima colonna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, settima colonna sì, che è questo 4 qua. Poi ci sono altre cime nel resto della batteria, c'è questo 1 circondato da 0, che poverino, è una piramidina un po' bassa, ma rispetta i vincoli. Noi abbiamo solamente chiesto che la piramide non abbia, la vetta non abbia quota 0, ma gli adiacenti possono averla. E in più, come caso particolare, è stato messo nell'esempio anche questo 1, che anche essa è una vetta lecita, perché si diceva che la vetta è circondata da caselle che sono più piccole oppure dai bordi della mappa. non so se ci sono altre vette sui bordi, non ci sono in questo esempio. E poi devo stampare l'altezza media nel caso in cui abbia trovato almeno una piramide, oppure se non trovo nessuna piramide, dovrò dire che non ne trovate. Allora, cominciamo a ragionare e direi che questo esercizio qua si presenta già direttamente come esercizio la cui struttura dati principale sarà una tabella, una lista di liste, che contiene numeri interi, no? Che è la presentazione più naturale di questa mappa bidimensionale. quindi possiamo creare, qui avevo già una soluzione, me la cancello e la rifaccio, perché la vogliamo fare insieme. creiamo la soluzione al nostro esercizio delle piramidi, scegliendo come struttura dati una tabella bidimensionale di numeri interi rappresentata sotto forma di lista di liste. Allora, per costruire questa tabella semplicemente cosa facciamo? La leggiamo dal file. Quindi posso costruire una funzioncina di lettura del file, leggi tabella, che riceve il nome del file, e mi costruisce questa tabella, apriamo il file per averlo sotto mano, è fatto così, quindi i numeri separati da spazio, a priori non so quante sono le righe, quante sono le colonne, quindi devo scoprire, man mano che leggo, e mi devo costruire questa tabella. Quindi aprirò il file, uguale open, nome file, in lettura, encoding, sono tutti numeri, non conta, ma mettiamolo per abitudine, e iniziamo a leggere le varie righe di questo file. Quindi noi possiamo avere una lista di liste, possiamo chiamarla mappa, che parte vuota, e poi ad ogni riga del file si arricchirà con una riga nuova di dati, con un elemento nuovo. Quindi forline in F, alla fine farò, dovrò fare un mappa appunto append di qualcosa. Questa è l'idea. Per riempire la tabella, parto da una tabella vuota, leggo le righe del file una per una, e per ciascuna ci aggiungerò una lista. Una lista di interi. Allora, devo costruire ovviamente la lista di interi corrispondente a una linea. La linea line è una stringa, terminata da barra n, per l'ho appena letta dal file. Quindi dovrò ripulire questa stringa, dividerla nei singoli componenti, nei singoli dati, che sono i numeri interi separati da spazio, e quindi essenzialmente dovrò avere i miei numeri di quella riga, li ottengo prendendo la line, togliendo il barra n finale e splittandola in corrispondenza degli spazi. In questo caso cosa ottengo? Ottengo una lista di stringhe e queste stringhe in realtà contengono ciascuna un numerino che corrisponde al valore di quota della singola casella. Questa non posso direttamente aggiungerla alla mappa, questa lista, perché è una lista che contiene stringhe, mentre in realtà voglio una lista che contiene interi. Quindi il modo più semplice è quello di convertire questa lista da una lista di stringhe, una lista di interi, in modo più semplice, più veloce è quello di usare un piccolo ciclo oppure una piccola comprehension, in cui dico che crea una lista in cui converto in intero l'n, for n in numeri, quindi per ciascun valore che è una stringa di la lista numeri, crea una nuova lista che contenga il valore intero corrispondente e questa lista poi la posso apprendere alla mappa. Prima di far ritorno devo ricordarmi di chiudere il file. Tutto qua. Proviamo a vedere subito se questo può funzionare, definiamo un piccolo main, mappa uguale, leggi tabella e gli passo mappa.txt come nome del file, stampa la mappa e vediamo cosa succede. No, devo chiamarla anche il main ovviamente. E questa è la mappa che ho letto direttamente dal file sotto forma appunto di lista di liste. E fin qui la parte diciamo così standard ovvia, abbiamo semplicemente una lettura di una tabella dati da file, facendo solo attenzione alla conversione intera. Poi a questo punto l'algoritmo per cercare le punte, i vertici di queste piramidi. Abbiamo questa mappa oramai, che abbiamo letto da file, e come facciamo a trovare quali sono i vertici? Allora la cosa più semplice, penso che possa essere di prendere uno per uno tutti questi valori e chiederci tu puoi essere un vertice di una piramide? E la risposta è sì se verifichi le due condizioni che abbiamo visto nel testo. Cioè hai un valore diverso da zero, maggiore di zero, e tutti i tuoi adiacenti, otto adiacenti, hanno un valore minore di te. Allora in questo caso tu sei il vertice di una piramide e quindi dobbiamo stamparti e memorizzarti, eccetera. Con l'eccezione di gli elementi che sono vicini ai bordi della matrice, dove vale la stessa regola ma le caselle adiacenti non sono otto ma sono di meno. Quindi qua c'è da fare un pochino di ginnastica con gli indici. Io, come so, provo a definirmi una funzione, cerca le vette a partire dalla mappa e vado a provare tutte le possibili posizioni di questa mappa. Quindi for i in range lendi mappa, non chiamiamolo i, chiamiamolo riga così è più esplicito, e for colonna in range lendi mappa di zero. Io ho messo mappa di zero prendendo come numero di colonne il numero effettivamente di elementi della prima riga, supponendo che le righe abbiano tutto lo stesso numero di colonne, ma lo posso fare perché il testo mi dava il permesso di non essere sospettoso sul formato del file. Quindi ho tutte le, con questi due cicli for annidati, genero tutte le possibili posizioni all'interno della matrice e per ciascuna di esse mi chiedo se se sei un vertice. if, e qua ho tutta una serie di if che dovrò fare per andare a vedere tutte le caselle intorno facendo attenzione a non uscire dai bordi della matrice. Quindi è una parte semplice concettualmente ma abbastanza rognosa dal punto di vista del codice perché ho tanti casi particolari. Allora, quale miglior candidato deve essere qualcosa che mette in una funzione a parte? Is vetta mappa riga colonna. Cioè definisco una funzione che mi dica questa posizione riga colonna in questa mappa è una vetta oppure no. se sì, allora posso fare due cose. La prima cosa, di qui dipende come vogliamo impostare il programma. Questa funzione cerca vette. Faccio che dice, cioè le cerca e basta oppure le stampa anche. Allora, a me sembra più generale la soluzione in cui le cerca e le mette da qualche parte e poi ci penserà qualcun altro a stamparle. Anche perché poi se le memorizzo diventa poi facile calcolare l'altezza media diventa facile verificare se non trovate almeno una e cose di questo genere. Se invece le stampassi subito avrei qua dentro tutta anche la logica di calcolo della media e di determinazione se sia stata trovata almeno una vetta oppure no. Quindi il testo ovviamente non ci dice cosa dobbiamo fare. Siamo noi che decidiamo come gestirci non le nostre strutture dati. Io preferisco a questo punto dire mi costruisco una lista di vette e ogni volta che trovo una vetta aggiungo ad esempio una tupla o potrebbe essere una piccola lista ma una piccola tupla con i tre dati che devo stampare. no? Allora i dati che devo stampare erano l'altezza e la riga e la colonna. Quindi mi sono perso eccolo qua l'altezza era mappa di riga colonna virgola riga virgola colonna. quindi alla fine di questo dopo ciclo for io avrò una lista che contiene le vette che ho trovato. E poi cosa ne faccio in questa lista lo vedrò subito dopo nel main. in questo caso ho costruito una lista di tuple la cosa sta diventando un pochino lunghetta non lunga ma insomma conviene a questo punto magari che scriviamo un minimo di documentazione dicendo data una mappa identifica tutte le vette e restituisce che cosa una lista di tuple corrispondenti alle veste ciascuna tupla contiene l'altezza la riga e la colonna. Così ce lo ricordiamo per dopo. ovviamente questa funzione non è ancora completa perché dobbiamo scrivere ancora la funzione arrugnosa i svette che data una riga e una colonna e ovviamente la mappa stessa mi dice se sono mi strutturà vero o falso a seconda che siano verificate le condizioni. quindi definiamo una terza funzione i svetta terza o quarta insomma quante sono che prende la mappa la riga e la colonna e fa una serie di verifiche. Quindi la verifica che può fare innanzitutto salviamoci subito l'altezza come mappa come mappa di riga colonna la estraiamo dalla mappa questo è il nostro punto di riferimento se questa altezza vale zero di sicuro non è una vetta quindi if altezza uguale zero return false e così ci siamo tolti il problema adesso l'altezza è diversa da zero e quindi devo andare a vedere le sue caselle adiacenti allora vorrà dire che devo andare a vedere che ne so la casella alla mia sinistra le quattro posizioni diciamo così cardinali alto, basso, sinistra, destra e le quattro posizioni diagonali quindi potrei impostarla in questo modo se trovo io vado a vedere nelle varie posizioni se trovo almeno un caso in cui il valore che trovo non è minore allora falso ok se io sono sulla canela con il 5 e trovo intorno a me un altro 5 o un 6 allora quella non è una vetta quindi posso fare una serie di controlli di questo tipo if mappe di riga meno 1 ad esempio colonna questa è la casella alla mia sinistra mappa questa è la casella alla mia sinistra se il suo valore è maggiore o uguale dell'altezza cioè non è minore allora di sicuro questa ti so già dire adesso senza guardare le altre caselle gli altri adiacenti che questa non è una vetta poi attenzione che però questa cosa qua la devo verificare è solo se esiste la casella alla mia sinistra quindi se riga è maggiore di 0 and no? perché se per caso la riga qui ho detto la casella sinistra ma ho sbagliato è la casella sopra sto facendo riga meno 1 la casella se sono sulla prima riga e quindi non c'è una riga superiore alla mia ovviamente non ho degli adiacenti in alto quindi ritorno fa e se non ho degli adiacenti in alto mi dice il testo che devo trattarlo come se fosse diciamo un fattore positivo non mi va a violare la possibilità di essere una vetta il fatto di essere i bordi della matrice quindi questo if mi sta dicendo se sono i bordi della matrice va tutto bene se non sono i bordi della matrice allora avrò una adiacente superiore e questo deve essere maggiore se non lo fosse quindi se io ritorno falso solamente se non sono i bordi e la casella adiacente non è più alta di me non è più bassa di me è più alta o uguale e questa cosa qua la dovrò scrivere la potrò scrivere 8 volte quindi avrò a questo punto questa è quella in alto up poi in basso ivriga minore di lenta bella degmappa minore minore uguale allora in quella sotto ha senso andare a leggere la casella sottostante se io non sono sull'ultima riga l'ultima riga ha indice pari alla lunghezza meno 1 quindi ha senso andare a prendere la tabella la riga successiva se non sono sull'ultima riga quindi sono almeno a lunghezza meno 2 al più a lunghezza meno 2 a questo punto mappa di riga più 1 colonna maggiore o uguale altezza return false noi dobbiamo sempre pensare che questo valore qua di riga se fosse len mappa meno 1 e lo mettiamo qua dentro che viene sommato a 1 alla fine fa il valore len mappa che è già sbagliato già fuori della mappa quindi deve essere strettamente minore e questo è in basso poi ci sarà sinistra e destra che saranno uguali giocando sulla colonna quindi if colonna maggiore di 0 and mappa sulla stessa riga colonna meno 1 maggiore o uguale altezza e a destra if colonna minore di len di mappa di 0 ricordiamoci che qua ci vuole il numero di colonne e non il numero di righe in questo caso purtroppo abbiamo un file che ci dà una mappa quadrata che ci aiuta a confonderci ma in realtà il numero di colonne e il numero di righe teniamoli ben separati and mappa riga colonna più 1 maggiore o uguale altezza e fatto questo siamo a metà del lavoro perché adesso dobbiamo ancora prendere i 4 angolini i 4 diagonali che sanno le combinazioni a 2 e 2 di questi quindi in alto sinistra in alto sinistra dovrò controllare se la mappa riga meno 1 colonna meno 1 maggiore o uguale altezza e purché ovviamente la riga sia maggiore di 0 e la colonna sia maggiore di 0 riga maggiore di 0 and colonna maggiore di 0 and mappa allora return false e questo è l'angolo up left in alto a sinistra in alto a destra in alto vuol dire che e qua è dove si sbaglia quando faccio copia e incolla così colonna minore di colonna minore di lendi mappa colonna meno 1 e qui ci metto un più allora sto andando in alto riga meno 1 a destra colonna più 1 e verifico che la riga sia maggiore di 0 quindi posso sottrarre 1 e la colonna sia minore del numero di colonne meno 1 e quindi posso sommarci 1 ok in alto a destra e poi ci sono le altre due che andranno in basso a destra e in basso a sinistra dove semplicemente metto riga più 1 e riga più 1 qua e dovrò controllare che la riga sia minore del l'eng mappa meno 1 ce l'avevo sopra lo devo riportare qua se non sono passato da nessuna di queste cioè se nessuna di queste if che andavano a vedere dei casi sfigati in cui esistesse una casella e questa casella fosse più alta di me se non è mai capitato dopo che lo cercate tutte e otto allora posso dire con certezza che io sono una vetta che la coordinata e riga colonna contengono effettivamente una vetta e guardando questa funzione mi convinco che sia stata una buona idea quella di mettere tutto questo casino dentro una funzione che volendo potrei anche testare a parte debbuggare a parte faccio un main che vada solamente a chiamare questa funzione con un po' di dati di esempio per verificare se funziona perché se l'avessi messa qua dentro dove ci sono già i doppi cicli for innanzitutto non avrei potuto fare questo return false come scorciatoia ma avrei dovuto fare una lunga catena di elif per testare le varie condizioni mentre qua sono dentro una funzione dico ok so già che il risultato è falso non vado avanti se avessi non posso prendere queste righe così come sono e trasportarle dentro questa questa if qua avrei dovuto probabilmente gestire una catena di if e leaf oppure un flag booleano vero falso che ogni volta mettevo vero mettevo falso se trovavo una di queste condizioni errate poi alla fine andavo qua a testare il flag però per facilità di lettura e di scrittura ho tenuto separate le cose allora questo già forse funziona nel senso che possiamo andare a vedere nel nostro main che vette vengono calcolate cerca vette vediamo cosa tira fuori ha tirato fuori 512 446 181 196 è giusto? sembra che ce ne fosse uno in più no con queste 512 446 181 196 la trovate tutte ovviamente non lo devo stampare così queste sono solamente stampe di prova di verifica ma il vero quindi posso commentare questa stampa il vero output del programma possiamo definire una funzione per stampare l'output oppure direttamente nel main è talmente semplice dovremmo chiederci se esistono delle vette allora le stampo stampo due cose l'elenco delle vette e il loro valore medio quindi devo fare la somma dei valori del primo elemento di ciascuna tupla e for vette in vette dovrò stampare questi tre numeri che sono vetta di 0 vetta di 1 vetta di 2 e poi somma uguale somma più vetta di 0 e alla fine dopo che stampate tutte le vette potrò stampare che l'altezza media sarà data da somma diviso l'en di vette altrimenti prente non abbiamo trovato vette è una possibilità che non ci sia nessun punto che soddisfi quelle condizioni questo if vette è una scorciatoia che si basa sul fatto che la stringa vuota la lista vuota la tupla vuota l'insieme vuoto eccetera vengono considerate come un valore falso dalla if e quindi sarebbe la stessa cosa che chiedersi se vette è uguale lista vuota oppure se lunghezza di vette è uguale a 0 di solito un contenitore vuoto e viene considerato come falso da una if quindi in questo caso il nostro programma dovrebbe stampare queste cose secondo il formato richiesto dal testo dell'esercizio ok? questa stessa questa funzione in realtà diciamo questo blocco di coice a me non piace particolarmente perché è molto ripetitivo copia e incolla eccetera no? uno potrebbe anche pensare di farlo in un modo diverso no? ad esempio facendo dei cicli per generare generare diciamo ripetere questa operazione qua all'interno di un ciclo e allora magari diventa un pochino più compatto un pochino meno meno sbrotolato vogliamo provare a farlo? definiamo una versione alternativa di questa funzione chiamiamola 2 che parte nello stesso modo e poi proviamo a fare a diciamo visitare tutti i vicini di una posizione con un ciclo in realtà con due cicli uno sulle righe e uno sulle colonne io posso far variare la riga da riga meno uno a riga più uno far variare la colonna da colonna meno uno a colonna più uno e così genero tutte le combinazioni possibili quindi chiamiamo R in range riga meno uno riga più due crea un range che mi dia i valori di riga che voglio esplorare per me devono essere riga meno uno riga e riga più uno però il range ovviamente mantiene escluso l'elemento di arrivo e quindi dovrò scrivere riga più due come elemento di arrivo del range perché riga più uno venga generato all'interno del range stesso e la stessa cosa lo faccio con la colonna a questo punto dentro questo doppio ciclo for avrò nove iterazioni otto sono per le caselle adiacenti e una per la casella stessa per me stesso che ovviamente devo saltare quando riga uguale R e la colonna è uguale C sto guardando me stesso ovviamente non lo devo guardare lo potete fare così altri lo possono vedere meglio magari ragionando sui delta delta riga in range meno uno due for delta colonna in range meno uno due quindi fanno meno uno zero due zero uno e quindi andrò a fare poi dentro riga più delta righe colonna più delta colonna andrò poi a leggere la mappa così invece così invece RC mettono già la riga e la colonna è lo stesso ovviamente no? se qui mi genero degli offset e metto sopra mi genero già i valori ok e cosa faccio qua dentro? ebbè vado a verificare la condizione di prima qui faccio la stessa cosa che facevamo prima però la faccio una volta sola innanzitutto deve essere non deve essere la mia colonna ok? quindi deve essere R diverso da riga riga or C diverso da colonna cioè non sono non sto non voglio confrontarmi con me stesso c'è un or perché mi basta che o la riga sia diversa o la colonna sia diversa quello che non voglio è che sia la colonna che la riga siano uguali cioè vado a beccare il centro and mappa di rc maggiore o uguale all'altezza se in tutti questi vicini ne trovo uno che non sia me stesso che ha un'altezza maggiore o uguale di me ritorno falso quindi questo ritorno falso va tra l'altro a interrompere questi cicli for se non le volessi interrompere basterebbe mettere una variabile un flag falso e poi dopo la fine testarlo ovviamente qua mancano ancora le altre condizioni che r sia maggiore di zero r sia minore adesso dobbiamo aggiungere non ce ne siamo tolti dai piedi però prima volevo condividere la logica quindi genero le nove caselle intorno alla mia se non sono io e quella che trovo è più grande di me falso adesso devo escludere non solo me stesso ma anche tutte le caselle che sono fuori dalla mappa lo posso fare in due modi un modo è quello di aggiungere qui fatemi mettere un altro paio di parentesi così posso andare a capo posso ancora aggiungere and r maggiore di zero and r minore di len di mappa and c maggiore di zero and c minore di len di mappa and la condizione vera e propria è qui chiaro che poiché sono dentro un ciclo non so se sto andando a sinistra o a destra quindi devo scrivere la condizione generica adesso secondo me lui mi mi sta suggerendo di usare l'inclusione quindi qua semplifica la condizione sì questa stessa cosa che ho scritto si può scrivere così r è completo tra zero e la lunghezza della mappa infatti ecco qua è sbagliato perché ci vuole un minore uguale sullo zero qui pensavo male perché mi avevo in mente la riga di prima che doveva essere maggiore di zero perché poi sottraevo uno invece qua r è già sottratto di uno quindi deve essere maggiore o uguale a zero per essere dentro la mappa quindi r deve essere compreso tra zero incluso e len e questa non è mappa ma è mappa di zero perché è il numero di colonne quindi richiede un pochino più di pianificazione però alla fine mi ha scritto meno righe di codici è uguale alla fine fanno lo stesso lavoro spero se nel main vado a sostituire non è nel main era nel cerca al posto di isvetta isvetta 2 il risultato dimenticato in due punti da qualche parte dove riga 30 acqua ovviamente il risultato no ovviamente no per fortuna il risultato non cambia quindi sono modi diversi di affrontare la stessa cosa l'ultima riflessione che volevo farvi su questo esercizio è su questa condizione qua uno dice ma perché tu generi dei valori che poi dopo devi escludere e non generarli cioè quando tu costruisci noi stiamo costruendo un range e poi dopo ci chiediamo ma guarda questo range era troppo grande è uscito da sinistra è uscito a destra allora non sarebbe meglio già costruire il range giusto in cui se per caso sono sulla prima riga il range non parte da riga meno uno ma parte da riga cioè punto di inizio del range anziché riga meno uno riga riga più uno questo va bene se sono al centro della matrice ma altrimenti se sono sulla prima riga riga meno uno non lo devo mettere allora questa cosa qua la posso fare scrivo sotto questi due fori la posso fare senza beh ovviamente non voglio fare una serie di if di casi particolari se no sono di nuovo da capo io se lo scrivo in modo generale sì qual è il punto di partenza del range sulle righe è zero oppure riga meno uno zero se sono sulla prima riga e riga meno uno in tutti gli altri casi quindi basta scrivere che sia il massimo tra zero e riga meno uno questo max mi fa da tappo se riga meno uno diventa negativo io comunque mi fermo a zero non scendo oltre e idem sul sul lato destro io mi dovrò fermare il massimo valore che devo avere sarà riga più uno qui è un pochino più complicato perché ci sono sempre questi meno uno e più uno quindi pensiamolo nel senso che io devo fare riga più uno deve andare deve valere al massimo len meno uno per stare dentro la matrice ok quindi il len meno uno è il valore massimo che devo avere quindi metterò qua il minimo tra riga più uno e il valore tappo limite che non voglio che venga mai superato che è la lunghezza della tabella meno uno attenzione che a tutto questo devo sommare uno perché sono in un range e il range si ferma a quello prima rispetto al dolore che gli ho dato quindi se sono dentro la matrice avrò riga più uno più uno se sono sull'ultima colonna quindi riga vale già lunghezza meno uno il più uno mi darebbe riga che va a lunghezza che è troppo e infatti questo minimo me la blocca a lunghezza meno uno e poi ci sommo uno perché al range devo sempre dare il valore di arrivo una casella più in là e la stessa cosa faccio qua ovviamente max a sinistra è sempre tutto più facile perché c'è lo zero e il range inizia esattamente da lì a destra è sempre un pochino più complicato quindi avrò colonna più uno length di mappa di zero meno uno ok allora se uno fa questo ragionamento qui ammesso che non gli venga mal di testa può evitare questa condizione quindi il resto è uguale ma questa condizione non serve più perché non non genero non genero proprio i valori che potrebbero uscire dalla mappa e quindi ho solo più queste due condizioni non sono io e non è più alto è chiaro che in sede d'esame quale scelta fare la prima che vi viene in mente potrebbe essere una buona risposta nel senso che l'impostate in un certo modo arrivate in fondo ma la risposta più giusta sarebbe quella in cui siete sicuri di riuscire ad arrivare alla fine correttamente ok quindi non non cercate di essere di essere come dire di avere del coach troppo intelligente o troppo compatto eccetera se siete tranquilli con la versione con le if andava benissimo lo stesso però magari qualcuno è più tranquillo così io probabilmente sarei partito da questa versione qua perché avevo paura nel copy and call di sbagliare le cose allora ho preferito ragionare nel caso generale però ciascuno diciamo così quando incontra poi quella parte di algoritmo decide come impostarselo non c'è una alla fine il risultato che calcoliamo è sempre esattamente lo stesso il tipo di confronti che facciamo sono sempre esattamente gli stessi e quindi non cambia nulla vediamo facendo solo una verifica scusatemi che con questa seconda versione il risultato sia lo stesso ok sì ok quindi lasciamo la prima versione la seconda come riferimento e purtroppo tutte le volte non tutte le volte ma molto spesso quando si ha a che fare con delle mappe bidimensionali alla fine il lavoro di questo tipo qua di andare a gestire diciamo così i contorni e gli adiacenti e ci sono sempre tutti i casi particolari che si incontrano e sono da gestire uno per uno essenzialmente ci sono i modi più furbi se uno non volesse gestire tutti questi casi particolari sai cosa fa? mette questi numeri in una mappa più grande che abbia una riga in più sopra una riga in più sotto una colonna in più a sinistra una colonna in più a destra tutte di zeri cioè faccio una cornice intorno a tutte di zeri mi costa niente quando leggo la matrice e a quel punto mi tolgo tutti i problemi ovviamente andrò a cercare solamente nella posizione della mappa dalla colonna 1 alla colonna a lunghezza meno 1 meno 2 anzi cioè nella cornice interna ma poi tutti i casi particolari scompaiono automaticamente perché riga meno 1 esiste sempre e vale 0 per costruzione per come l'ho costruita io quindi uno può addirittura giocare a livello di rappresentazione dei dati per semplificarsi poi gli algoritmi che usa però magari mi viene quest'idea magari non mi viene però in questo caso sarebbe stato ci avrebbe semplificato probabilmente di molto il lavoro perché avremmo diciamo così buttato via tutto e avremmo semplicemente scritto if mappa return false dentro scusate avremmo probabilmente fatto questo ok dimmi si può fare? con try no lo spiego meglio tu stai dicendo se ho capito bene piuttosto di fare questi controlli non li faccio e faccio un try try except ok except cosa? except out of range error adesso non mi ricordo come si chiama andiamo subito a vederlo generiamone uno così qui a caso al volo quindi mettiamo a uguale 3 a di comunque l'accezione che da è index error allora questo potrebbe essere un'idea del tipo io lavoro come se non ci fossero problemi ok poi se per caso c'è un problema per cui uso un indice che non dovrei usare perché esco dalla matrice ho un'eccezione e questa eccezione fa sì che il codice non venga eseguito funzionerebbe funzionerebbe se non fosse che python consideri in modo particolare gli indici negativi per cui se io faccio a di meno uno mi dà un valore mi dà un valore mi danno gli elementi a partire dall'ultimo in questo contesto qui invece il meno uno è un errore è da non considerare quindi purtroppo dico purtroppo perché queste cose indici negativi secondo me sembra una comodità all'inizio ma poi alla fine è controproducente proprio per questo motivo non mi permette di avere un modo automatico di rivelare se esco da una lista essenzialmente lo posso fare se vado sempre verso destra ma se vado verso sinistra passare da zero a meno uno non mi genera un errore e quindi dovrei comunque verificarlo a parte purtroppo l'idea è buona ma questo trattamento di indici negativi la rende non applicabile in python nello specifico diverso è se fosse penso un dizionario la chiave c'è la chiave non c'è la potrei anche gestire con eccezione certo